Buongiorno, sono Leonardo Tancredi e sono laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti. Buongiorno, sono Anna Moretti, sono laureata in giurisprudenza con il massimo dei voti. Dovreste assumermi perché sono una persona molto comunicativa e molto persuasiva. Dovreste assumermi perché ho una grande capacità comunicativa, sono persuasiva e determinata. Sì, ho due bambini piccoli. Ho due figli. Vogliamo occasioni, non porta in faccia. Grazie. 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 Grazie.